buonasera a tutti allora questi sono i cinque cuccioli che abbiamo salvato in provincia di Avellino sono stati svezzati da noi perché avevano circa 20 giorni ora sono in piena forma sono stati sverminati spulciati e hanno anche il primo vaccino sono quattro femmine poi c'è il maschietto lì cercano una famiglia sappiamo che il periodo è difficile ma contiamo sulle vostre condivisioni aiutateci e arrivano dopo il preaffido e il questionario in tutta Italia tramite staffetta grazie mille ciao 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 ciao